gentili telespettatori buona giornata un retroscena fasullo parla di una meloni preoccupata quale sarebbe la preoccupazione che qualcuno voglia usare il terzo polo calenda erenzi come grimaldello per destabilizzare il mio governo ecco leggo dei virgolettati a cui non credo questo virgolettato dice proprio così la meloni dice due punti virgolette vogliono usare il terzo polo come grimaldello per destabilizzare me il mio governo chiuse le virgolette questa frase viene attribuita a giorgia meloni a cui io non credo non credo abbiamo visto in queste ultime settimane c'è una nuova forma di giornalismo quella delle balle balle vere e proprie consistenti che cosa fanno addirittura mettono delle notizie false e per giustificarle fare credere ai lettori che sia assolutamente vera la notizia sotto il titolo mettono dei virgolettati che avrebbe detto meloni nordio salvini o il tal politico di centrodestra dei virgolettati così la gente è indotta a pensare beh e fra virgolette vuol dire che sono proprio le parole della meloni e sono proprio le parole della della meloni in realtà spesso queste sono tecniche per falsificare i titoli e farli rendere credibili al proprio pubblico lettore dove il lettore del tal giornale non visto che l'ha comprato lo legge non dubita dell'onestà intellettuale del giornale che sta leggendo che le calenda sulle questa presunta frase della meloni che vogliono usare il terzo polo come grimalderlo per stabilizzare me il mio governo dice no non è così dall'inizio ho avuto un rapporto costruttivo con la meloni sono andato a palazzo chigi a presentare le nostre proposte ho votato contro le cose che considero sbagliate ho rapporti con i ministri competenti che sono al governo quindi lui dice io non ho nessun muro ideologico non ho un no a priori un'opposizione a prescindere che si oppone a tutto perché credo che calenda sia tra quelli che oggi sono all'opposizione quelli che fanno opposizione più intelligente calenda non le manda a dire quando deve criticare la meloni la critica anche pesantemente ma quando vede che secondo lui sono cose giuste lo dice ed è questo che non piace a chi sta dietro i muri ideologici perché c'è il muro ideologico di sinistra il muro ideologico di destra e poi lui si è posizionato in mezzo a questi muri ideologici guarda di qua e guarda di là e vede questi muri dove dietro questi muri ci sono i militanti politici o anche persone comune che vogliono continuare a vedere la politica italiana come di qua è tutto giusto di là è tutto sbagliato quelli dall'altra parte dicono di qua tutto giusto e di là tutto sbagliato questo l'abbiamo visto per tanti anni ad esempio un governo fa qualcosa arriva quello dopo e cancella tutto vi ricordate il ponte sullo stretto che berlusconi dà l'avvio alla costruzione del ponte sullo stretto poi cade il governo arriva alla sinistra cosa fa corre a cancellare tutto il progetto sul ponte dello stretto corsi a cancellare subito tutto un'opera che oggi sarebbe terminata e avrebbe portato ad un vantaggio economico per l'italia matteo salvini e il governo fanno i decreti sicurezza come ci sono in spagna da tante altre parti arriva alla sinistra la prima cosa che fa è correre subito a cancellare i decreti sicurezza perché è tutto sbagliato di là capite che i governi che si sono susseguiti in italia che prima di berlusconi sono durati otto mesi di media facevano a gara a fare facendo debito arrivava l'altro cancellava tutto faceva altro debito per fare le proprie bandierine e così siamo andati avanti distruggendo il paese portandolo a questo indebitamento calenda è lì in mezzo e dice io non voglio mettere un terzo muro il terzo polo con il terzo muro ideologico no quello che secondo me è giusto indipendentemente che sia di destra di sinistra lo dico se c'è qualcosa di sbagliato indipendentemente che sia di destra o di sinistra lo dico questo è un po quello che faccio io se c'è una cosa di sinistra giusta lo dico se c'è una cosa di sinistra sbagliata lo dico stessa cosa faccio col centro-destra se è una cosa giusta la dico se è una cosa giusta non la dico vi faccio un esempio rassegna stampa non so se la vedete ogni mattina rassegna stampa continuo a vedere dei titoli inventati con delle notizie fasulle a volte sono sui giornali di destra a volte sui giornali di sinistra quindi nel nella rassegna stampa dove vedo delle notizie false sui giornali di sinistra dico guardate questa notizia è falsa per questo e per questo motivo in quel video quelli che si sono iscritti al canale pensando che io sia di sinistra ascoltando che io critico i giornali di sinistra si cancellano subito quando io critico i giornali di destra dice ma come questo non era di centro-destra e mi critica i giornali di destra ma cose da pazzi tu si cancellano no allora vedete per esempio oggi vi faccio un esempio oggi sul sulla rassegna stampa ci sono cinque iscritti e tre cancellati saldo più due cinque iscritti e tre cancellati perché nell'ultima rassegna stampa ho detto che i giornali di sinistra hanno raccontato delle bugie in prima pagina quindi tre cancellati presumibilmente di sinistra e cinque iscritti di destra di centrodestra domani che magari vi racconterò le balle che scrivono quelli di destra avremo cinque iscritti e tre cancellati dove i tre cancellati sono di destra e i cinque iscritti sono di sinistra questi sono i muri ideologici persone che non riescono a pensare con la propria testa e dire è una notizia falsa perché non dobbiamo dire che è una notizia falsa dobbiamo far finta di niente e guardare oltre perché non porta acqua al mulino non porta acqua al proprio orticello bisogna aprire le guardate che le uniche due persone che stanno andando bene in politica oggi sono meloni e calenda perché non hanno muri ideologici grazie a tutti e arrivederci a presto